Ciao, sono Francesca Brandina, ho 24 anni e sono attualmente praticante avvocato, mi sono laureata ad aprile, collaboro con Fran nel suo blog. In particolare sono un'amante dello sport, di ogni forma di sport, ma mi sono appassionata alla sala pese e al bodybuilding da circa due anni e quindi mi dedico principalmente a quello. L'altra mia più grande passione è la cucina, in particolare la cucina fit and healthy, quindi cerco costantemente delle alternative a quelli che sono gli ingredienti magari dei piatti tradizionali, ricchi di grasse e di zuccheri, cerco di replicarle sperimentando in cucina. Questo è Edoardo, mio figlio di 4 anni e saluta! Ecco, quindi adoro sperimentare in cucina, adoro promuovere questo stile di vita sano e lo faccio attraverso la mia stessa pagina Instagram, Francesca Fitness Freak e il mio stesso blog che è sempre francescafitnessfreak.it dove pubblico quotidianamente delle ricette che cerchino di unire quello che è il gusto e quindi siano sfiziose e gustose, la semplicità, quindi soprattutto per persone che sono sempre di fretta, infatti utilizzo tantissimo il microonde e non me ne vogliate e allo stesso tempo comunque l'aspetto salutare devono essere ingredienti puliti, ingredienti clean che permettano quindi di ottenere certi risultati a livello fisico perché è inutile negarlo, si fa sport perché fa bene, si mangia sano perché fa bene, però anche per ottenere dei risultati concreti quindi a livello estetico e niente seguitemi sui miei social e ciao a tutti!